Ben tornati a tutti. Oggi è martedì, 16 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli? Testa confusa ma il cuore no? Mente confusa stamani, forse nel weekend vi siete stancati molto e avete dormito poco. Aggiungeteci anche la nota fluttuanti della luna acquatica e di Nettuno allo zenite e capirete perché oggi sognate cento per quagliare uno. In concludenti sul lavoro e anche un po' frettolosi, ragione per cui collezionate errori, arrivando a sera senza nulla di fatto. Obiettivo centrato sul fronte sentimentale, venere all'opposizione funge da calamita, qualcuno vi attrae irresistibilmente, ma le vostre antenne vi garantiscono che anche voi nei suoi confronti avete esercitato il vostro magnetismo con successo. La coppia e l'amore appaiono stabili e fortificati, anche se apparentemente ci sono piccole crepe, l'edificio è al sicuro e ben solido. Solo i progetti potrebbero essere ritardati da una certa noia e monotonia che potrebbe attraversare la coppia che però resterà solida. Inviti di amici a feste, inviti da parenti, cene, pranzi, colazioni possono allietare la coppia. I single avranno molto da fare partecipando a feste e cerimonie, le conoscenze potrebbero esserci ma non esaltanti. In ogni caso metteranno tanto impegno nel consolidare la loro immagine che costituirà una profonda attrattiva in seguito. Oggi vi sentirete particolarmente nostalgici e malinconici, cercate di frequentare gente allegra e soprattutto gente cpn la quale vi piace veramente stare senza sentirvi costretti. Tempi duri per l'amore, se siete in procinto di prendere one decisione il momento sbagliato è questo. Rinviate ogni decisione. Avvertirai un senso di ribellione. Evita le bugie e le promesse inutili. Ritardi, rinvii, confusione, lettere e messaggi che non arrivano o ritardano. Preparatevi ad affrontare situazioni che potrebbero diventare complicate e raccapriccianti. Soprattutto in amore potreste trovarvi di fronte a situazioni al limite dell'inverosimile. Non siate gelosi né permalosi ma riflettete bene prima di parlare e di prendere qualsiasi decisione. Molte cose buone potrebbero capitarvi in amore, siete però legati da laccetti e lacciuoli che vi tengono fermi, troppo fermi. Provate a liberarvi presto da questi lacci che non vi fanno spiccare il volo. Dovresti cercare nella giornata di oggi di vivere secondo il tuo abituale modo e non quello che gli altri vorrebbero. Del resto cercare di essere sempre se stessi e salutare è fonte di soddisfazione. Ottima la salute, fate qualche sport se vi è possibile ne tarrete vantaggio. Oggi potreste ritrovarvi in qualche situazione imbarazzante dalle quali sarà difficile uscire. I single avranno occasioni nuove ma le nuove conoscenze si mostreranno solo interessati alla fisicità. E-mail, messaggi e posta ordinaria in arrivo, i nati di martedì e mercoledì troveranno la posta particolarmente interessante. Non perdete il vostro prezioso tempo intorno a persone che vi faranno perdere del tempo utile. Giornata di metà mese che manifesta alti e bassi. Stuzzicati da Saturno che si trova in posizione imbronciata dal segno dei pesci, vi trovate a far fronte a una situazione un po' disordinata in famiglia, che comunque riuscite a risolvere con la consueta fermezza di polso. In particolar modo se siete nati in maggio avrete la capacità di voltare situazioni apparentemente a vostro sfavore, in una occasione di convenienza e di vantaggio. Convenere contraria, i nati nella seconda decade sappiano andarci piano negli allenamenti, in campo sportivo, nelle situazioni in cui mettono alla prova i loro muscoli, specie nelle loro attività preferite come il nuoto, lo sci, il canottaggio. Antipatica quest'oggi la luna, tra l'altro signora della giornata, raffreddata e indurita da Nettuno e da Saturno draconiano che l'accompagna, puntato come un indice accusatore verso il cielo. Aggiungeteci anche Urano sempre dispettoso e imprevedibile nella vostra dodicesima casa, alle prese con una mutua conversazione insieme all'ermetico Plutone in Capricorno. Vi parleranno di soldi, di investimenti, di azioni, argomenti molto interessanti, almeno per chi ha qualcosa da investire. Controllate i vostri conti e regolatevi di conseguenza. Ciò che invece gira poco e male è l'amore con venere simpatica e promettete in sagittario, ma è mera freddata dalla doccia gelida di Nettuno, lastro delle fantasie senza costrutto e delle illusioni perdute alla Balzac. Amore ed Eros. Ancora attratti dal partner o da una persona molto vicina dalla quale in qualche modo vi siete sentiti traditi, non necessariamente tra le lenzuola, ma nella fiducia ed è ancora peggio. Purtroppo il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e così contro ogni aspettativa la vostra mente da scacchista ha già capito tutto. Per i cuori solitari con un passato influenzato dalla famiglia, soprattutto una figura genitoriale possessiva, la paura del legame si evidenzia. Se invece la coppia è in crisi tentennare su una decisione, per ora state insieme ancora, ma puntando già a direzioni diverse. L'insoddisfazione vi si legge in faccia e prima di questa quel senso di disillusione, il viso di un bambino a cui è stato sottratto il giocattolo preferito. Il desiderio erotico vi coglie alla sprobista, rendendovi irrequieti, è mai possibile che il cuore sembri freddo mentre la pelle brucia ancora. Lavoro e denaro. Caos mentale, quando il cuore piange la testa non ha risposte da dargli, ma nemmeno l'energia e la capacità di concentrarsi sui propri impegni, anche se presi in precedenza con grande serietà. Imprevisti su vari fronti, a cominciare da quello finanziario, se vi siete lasciati convincere a effettuare un investimento arrischiato, ora preparatevi a lacrimare sul latte versato, impossibile farlo rientrare nel contenitore. Benessere. Raffreddati, stanchi e irritati da un fastidioso cerchio alla testa che non se ne va nemmeno con l'analgesico. Forse ieri trasci e sole avete tirato troppo, o forse avreste dovuto essere più cauti nei luoghi affollati tra tanti starnuti e colpi di tosse. Faciloni anche stavolta, non resta che andare a fare scorta di fazzoletti di carta. Per lei, quando vi parte l'embolo, dopo una discussione con lui, per non diventare caustiche vi rifugiate sul piano del sogno, perdendovi dietro fantasie strampalate. Un'ancora di salvezza, tanto che alla fine non ricordate nemmeno più la ragione per cui vi stavate beccando. Per lui, finite da poco le vacanze si comincia già a parlare delle prossime primaverili o addirittura estive, cercando in rete le offerte più golose. Probabilmente non prenoterete nulla, ma intanto il treno della fantasia è già partito dalla vostra stazione. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, più viginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.